Soletta Igroscopica Germania Ovest, studiata per essere indossata con gli anfibi, è composta di materiale plastico del tipo antibatterico, antimuffa, antiodore, in quanto è costituita da una parte inferiore più gommosa, con una colla grippante e una parte superiore più liscia. È una griglia traspirante al 100% che ha la capacità di mantenere sempre il piede asciutto sia d'estate che d'inverno, per cui è sempre sotto ben areato, ha uno spessore di qualche millimetro, giusto quello che serve per non stare a contatto col piede e isolarlo e creare una piccola camera d'aria. Le misure tedesche sono espresse in centimetri, 26,5 all'incirca corrisponde alla misura del piede, della lunghezza. Poi troverete tutte le misure. Si può estrarre e lavare sotto un getto d'acqua forzata o pulire con un compressore, perché i residui potrebbero incastrarsi e andare a rendere inefficace la traspirabilità. Per l'umidità possiamo fare una prova e vedere che effettivamente passa tranquillamente l'acqua, è molto traspirante, infatti viene, filtra perfettamente come si può vedere tutto quello che è acqua, fa sì che il piede resti molto molto asciutto.